Cambia le percentuali delle capienze nei luoghi pubblici che saranno ridotte per quello che riguarda le discoteche e gli stadi. Voglio andare in disco a fare dons, 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 6 persone, tante persone, no, 3 persone, tante persone, 100 persone, no, troppe persone, posso cantare, no, non ci andate, posso ballare, no, da oggi discoteca, chi ci va, tante persone, 3 persone, 5 milioni di persone, Corre Grimpas, senza Grimpas, corre Grimpas, no, senza Grimpas, corre Grimpas, no, hey, no, hey, no, una vergogna, basta, voglio andare al disco a fare E' genius Senza Grimpas, corre Grimpas, questo paese è finito